Buonasera Giunta. Buonasera, buonasera a tutti. Chiaramente dopo una sconfitta numericamente pesante come quella di oggi non è facile intervenire quindi davvero la ringrazio per essere qui con noi e intanto come avete analizzato questo cinque a zero e ha pesato questo gol a bruciapelo e quanto ha pesato anche chiedo se ha pesato la sconfitta in casa del Sersale? Allora io ci terrei precisare che il risultato del cinque a zero ovviamente è un po' bugiardo non perché noi meritavamo di non subire tutti questi gol perché intanto partivamo da una squadra rimareggiata avevamo otto isolari non disponibili purtroppo avrei avuto il piacere di confrontarmi con l'Opi con una squadra più completa ma non è stato possibile quindi è che il mister ovviamente il secondo tempo è stato costretto a pregiudicare un po' l'assetto visto che eravamo sotto di due a zero abbiamo messo un ragazzo giovane che era arrivato da quattro giorni che poi hanno visto tutti che è stato purtroppo un disastro non è entrato e quindi abbiamo subito altri tre gol e vedete le azioni sono arrivati tutti da quella posizione lì e quindi non do le colpe ovviamente a nessuno è stato solo un problema di rosa che numericamente parlando siamo un po' inferiori rispetto a loro questa è la pura verità perché il Locri ma con calciatore ne prende un altro lo mette una questione prettamente di organico insomma da noi manca qualcosa da 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 prendere urgentemente se vogliamo pensare di poter combattere per questo campionato comunque sull'1 a 0 comunque da quanto ci sarà stato raccontato in qualche modo avete contenuto questo Locri avete anche cercato chiaramente di no c'è stata una bella reazione anche se il gol sembrava l'azione in sospetto fuori gioco e questo non lo posso dire perché io ero proprio in linea con il centrocampo ma le immagini probabilmente poi chiariranno questa 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 situazione che è successa perché io sembra a mio avviso che il primo gol l'azione era era partita da un sospetto fuori gioco poi praticamente abbiamo avuto una bella reazione come abbiamo visto anche se non abbiamo creati tanti pericoli perché è inutile ci nascondiamo il Locri è una signora squadra e si è difesa abbastanza bene e di conseguenza noi abbiamo creato pochi pericoli per poter cercare di pareggiare è anche vero perché ripeto non avendo la rosa completo ci mancava Padin ci mancava Cordova ci mancava Fayet che purtroppo per problemi familiari è dovuto partire e ci ha spiazzato praticamente proprio nelle due partite più importanti abbiamo dovuto prendere questo difensore centrale all'improvviso che poi sembra che non è adatto alle nostre esigenze quindi ora vediamo di prendere qualche provvedimento questa settimana perché è ovvio che dobbiamo dobbiamo intervenire sul mercato prima di subito insomma per avere i sostituti necessari puntieri l'assenza di puntieri ovviamente si fa sentire tanto perché sapete che puntieri è un punto di forza di questa squadra bene questo è il quadro è il quadro reale della situazione questa insomma ci avete provato però chiaramente con gli uomini a disposizione ma certo avevamo cinque sei fuori quadra è ovvio che non potevamo subire un cinque a zero così con una squadra completa sì vabbè è maturato anche in un secondo tempo dove magari subisci il terzo gol la squadra magari pure il nervosismo può capitare no questi diciamo che l'arbitro l'arbitro non è stato un arbitro all'altezza secondo me perché praticamente loro giocavano con troppo agonismo secondo me qualche ammonizione ci stava e magari si sarebbero trattenuto un po' di più gli avversari non ammoniva nessuno ammonito solo due tre dei nostri giocatori ma secondo me loro avrebbero avuto dovuto subire almeno tre quattro ammonizione che non hanno avuto quindi è normale che poi giocano più tranquilli possono fare qualche fallo in più con più cattiveria eccetera Vincenzo sì buonasera io volevo tornare su quello che ha detto infatti presente che era quello del fatto che bisogna intervenire su qualcosa io ho visto la squadra domenica scorsa mi pare che oggi hanno giocato gli stessi undici che hanno giocato a Sertale non vorrei sbagliarmi perché voglio tornare su questo fatto dica no no è perché effettivamente da 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 venti giorni che abbiamo che vi mancano padini e gli altri che sono infortunati mi mancano l'ossatura praticamente della squadra ecco però io volevo volevo intervenire su questo perché eh per la grande mole di gioco che fate perché tenete sempre il possesso della palla a mi sento gli piace controllare la partita col pallone si gira spesso avete un centrocampo fortissimo con questi ragazzi argentini ho visti che girano sempre la palla e poi questi due esterni che sono appunto semenzi nei lancioni cioè secondo me è vero quello che dice lei lo dico io magari forse io non so la vedo in questo senso vi manca un centra è un vero centravanti non mi dica di padini perché non lo ritengo un vero centravanti perché anche lui è un po' esterno gli piace svariare quella boa che forse vi manca questo per sfruttare devo dire una mole di gioco incredibile assolutamente sì ma anche soprattutto ci manca in questo momento urgentemente pure un difensore centrale di un certo livello perché come avete visto oggi la partita il mister è stato costretto a spostare Verduci che è un gran centrocampista centrale e Lopez l'ha dovuto mettere indietro in difesa è ovvio che poi il centrocampo non ti può funzionare più poti non può stare da solo insomma ecco no 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 ripeto ora sicuramente in questa settimana il direttore interverrà sul mercato sperando di trovare un di trovare in base al nostro budget soprattutto perché noi non abbiamo nessuna intenzione di strastendere per dei calciatori e quindi noi se dobbiamo vincere dobbiamo vincere con i giovani trovare dei giovani in certo livello con non tanti soldi diciamo che non è facile però il direttore nostro è all'altezza di poterlo fare quindi sicuramente troveremo qualcosa bisogna correggere il tiro per rimanere lì in alto non perdere chiaramente contatto la possibilità c'è voglio dire l'inizio è stato più che positivo io non giudico un campionato compromesso perché è troppo siamo alle prime battute quindi l'ottava giornata secondo me se interveniamo in tempo e i ragazzi ovviamente non credo che si demoralizzano per una partita per una confitta anche perché lo sanno che il risultato è sempre tre punti sono il risultato è stato un tentativo di riavizzare la partita che è andato male però secondo me se interveniamo bene sul mercato ancora ce la possiamo giocare tranquillamente c'è tutto il tempo